benvenuti alla 61esima edizione del salone internazionale di genova qui siamo in casa suzuki tutta la gamma in esposizione e qui accanto a me i best seller i 40 cavalli e questo è il corridoio dei nostri gioielli di casa i più grandi v6 una gamma per tutte le esigenze qui vedete tutte le medie potenze qui abbiamo il top di gamma il df 350 a con tutta la tecnologia suzuki ultimate ed ecco i nuovi strumenti che vi racconteremo però in un altro video adesso non vi resta che venire a provare i nostri fuori bordo qui alla marina potete prenotarli dalle nostre ragazze guardate c'è già la fila affrettatevi